in maglia bianca, poi Zidane bravo Nedved che torna e intercetta anche palla non c'era protezione per la difesa stava rimanendo Davids abbastanza lentamente lui ha capito che era pericolosa l'azione dei giocatori del Real e l'ha andato subito a toccare palla e vedete che si piega in due dalla disperazione Nedved perché questa munizione lo costringerà a saltare la finale di Champions League guardate quello che è successo questo è un episodio importantissimo e ha ritirato un calcio inutile è andato subito con la gamba sinistra e l'ha tenuta anche stretta poi ha replicato